Perché poi in fondo se hai un sogno rimani vivo, nel senso delle volte ho pensato, ma se realizzassi il mio sogno, dove mi aggrapperei per andare avanti? Quindi nonostante la frustrazione a volte di non essere arrivato a un certo punto ancora, ho quella speranza che finché hai quel sogno da raggiungere ti senti vivo e hai una marcia in più per poterlo fare. Non realizzare un sogno a volte ti porta ad avere sempre un sogno, non lo so se è un po' una cazzata o una consolazione, però sembra che non cresci mai, che l'età per te non avanza perché tu devi realizzare quel sogno.